Persiste il problema riguardante la buona qualità delle acque del Lago di Garda, tanto da finire in Parlamento con l'interrogazione a firma dei senatori Vittorio Fravezzi, Franco Pannizza e tanti altri. Chiedono al Ministro dell'Ambiente chiaramente in merito al procedere delle opere di manutenzione e miglioria del collettore delle acque reflue posto nella parte meridionale del Garda. L'interrogazione mette in evidenza l'importanza del Garda non solo a livello turistico locale ma anche nazionale. Le acque del Lago di Garda, scrivono coloro che interrogano i ministri, rappresentano il 40% della risorsa idrica disponibile della nazione. Ecco quindi che diventa fondamentale mantenere monitorato lo stato del collettore che porta sulle spalle 40 anni di servizio e che dovrà essere a poco a poco rinnovato o sostituito da depuratori a monte. Sistema, quest'ultimo, utilizzato nella parte trentina del lago, che quindi immette nel bacino acqua depurata. Pronta la risposta del Ministero per la quale il senatore Fravezzi si è detto soddisfatto. Il Ministero dell'Ambiente, risponde il sottosegretario Degana, ha già finanziato diversi interventi atti a risolvere le criticità presenti nella zona del Lago di Garda. Degana ha infine ricordato che il miglioramento e potenziamento delle opere infrastrutturali per la salvaguardia ecologica del Lago è di competenza delle amministrazioni locali.